Bella ragazzi, bentornati qui sul canale di Granzer, lo inculo sempre E siamo qui oggi con la rivincita Di ramazzo Sul nostro canale Famogliela aiuta In realtà abbiamo vinto noi, quindi la rivincita deve essere sua Sì, la rivincita sua, perché in realtà Noi abbiamo spaccato E non ci siamo mai cambiati, in due giorni Era sul canale di Klaus, quindi avete anche il link in descrizione del video precedente Iscrivetevi al suo, iscrivetevi al nostro Siamo qui appunto con di nuovo la sfida del Indovino allo youtuber Ovvero noi faremo vedere dei pezzi di foto, di faccia, di corpo, di piede, degli youtuber E anche di quella sua Sì, anche della passera E loro due dovranno indovinare quali sono gli youtuber in questione Direi di partire subito, cioè io faccio vedere e loro due indovinano Quindi partiamo subito con la prima Ah, tu sei tu Devi zoomare No, io, io No, no Il mio Il canale è mio Chi c'è più iscritti? Alessandro Deleco No Alessandro Deleco No Codera la tipo? Tica No Tonno Matteo No Bibiani Ma non c'è tutto pixelosa, ma cazzo fai? E lui Dario Moccia No Fa prank Malissimo No 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 Wię del senno ma che cazzo è ha fatto di niente no o no non è scritti casi via il suo braccio e quando o c'era uno dei più seguiti e ritorno ma io ho messo un menta parte di campo un po' un po' un po' un po' un po' un po' assurdo l'autorità la vita la faccia sono di passaggio per il centro il mercato da vada per l'arrivo no eserati.it appunto puricini apparezzare il natale di stiano ma un del beco per farmi sto con punto io non sono bene no soli no no e' italiano e' da moglie si you can ma sei fuggio io l'ho detta come battuto ah bello se tappati con l'occasione e' l'ultima nelson dei relativi nooo no e' una donna e' la riva e marcia si e' il porto e' l'occasione boom 10 10 4 a 1 tu vedi questo dove? te lo metto io te la parte te lo metto al culo vai mo tocca a lui eh Laila? no eh eh Ila? eh no e' una donna? no ho preso a posto questo pezzetto eh Freak Matano? no eh Favij VJ ah ci ha preso uuuuuh e' un pezzo di pezza avivi di gabbiano VJ no perchè è il pezzo è il pezzo di capello 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 l'ho preso apposta per ingannarvi boh ma che acabe il ragazzo mamma mia thank no Dario Moccia mazza subito uuuuuh i pezzi se vede poco che tu li guardi eh i pezzi eh stai a dire stai a dire stai a dire eh guarda qui sopra guarda io Moccia se lo guardavo così eh eeeh ah Pamela Anderson ahahah mi chiamai cosa hai Pamela Anderson ma che è? è un pezzo di barba ah è un pezzo di barba ah eeeh aspetta puoi puoi ancora vincere te eh cross 69 marco merrino 2-0 sbooo sbooo hai fatto anche tu contro di me l'hai fatto si nel video tuo che non ti ricordi che lui pure ha detto ehm tanto tempo fa eh ehm molto tempo fa il passato è passato eh philipi ma ho fatto aprire ehm vabbè ah ehm si 7 7 7 7 10 7 8 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 letto lo stesso il pezzo questo via fa no del xx fagini cazzo e non ha bisogno che ha mai detto e' italiano di donato indizio a un fratello che fa la zona sono o una nooo zoom quale altra coppia di padelli ah ah Joker Joker eh però tu non puoi si è prenotato quindi sei a zero eh si perchè tu non puoi dire due nomi insieme perchè o dici ci giochiamo o dici Joker allora ragazzi io terminerei qua perchè Klausa purtroppo non ha indovinato anche una ma il cazzo dici che lo indovinate un paio no eh non è capace non ce lo sa una se l'ho indovinata ma che è sto qua vabbè comunque cazzo non ha indovinato nulla quindi dato che fa schifo veniamo qua perchè non vorrei fargli fare la sicura de merda esatto sto uccendo capa cat allora se vi ha piaciuto questo episodio diciamo 2500 anzi 3000 mi piace e ci sarà un prossimo episodio magari o dire o un'altra volta con lui se lo vuoi tanto oppure magari chiamiamo qualche altru youtubers e niente se vedete mai al prossimo video lasciate mi piace e condividete c'è la pagina sotto in descrizione come on nico ciao 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 ciao